baschettari impenitenti o semplici nuovi appassionati bentornati a una puntata speciale in the paint e sì perché è una puntata che divideremo in due la prima dove ci occuperemo del basket internazionale la seconda che sarà una vera e propria guida alla giornata di campionato tante le notizie di cui parlare tante le partite da analizzare tanti i temi da trattare cominciamo subito dall'eurolega eurolega in cui si sono disputate sei delle nove gare in programma per il secondo turno di regular season nella serata di mercoledì alle 19 alla salga sono scese in campo monaco e maccabi tel aviv vittoria del monaco per 85 a 79 è una storia a margine perché perché jordan lloyd che aveva lasciato il monaco per firmare proprio con il maccabi tel aviv fa il percorso inverso un percorso inverso che però va spiegato perché fino all'anno scorso vi erano delle finestre determinate per i trasferimenti quest'anno invece la regola è cambiata sono possibili gli impieghi immediati dei giocatori trasferiti da una squadra di eurolega all'altra fino al ventisettesimo turno purché questi trasferimenti siano avvenuti prima della prima giornata del girone di ritorno è una regola che è cambiata però in sordina e qui viene da porre una domanda a all'eurolega al presidente bodiroga e a tutto l'apparato di comunicazione della competizione è possibile è possibile che una norma del genere non venga comunicata un cambio che stravolge fondamentalmente il mercato perché l'anno scorso per esempio non si sarebbe potuto utilizzare jordan lloyd nella terza giornata ma si sarebbe dovuto attendere la prima giornata del giornale di ritorno è è plausibile che non solo i media ma i tifosi non sappiano di questa possibilità e che si ritrovino una regola approvata senza dire niente a nessuno alla quale doversi abituare questo è il tema perché alla fin fine un tifoso che si vede cambiare improvvisamente un che si vede cambiare improvvisamente le regole sotto il naso senza che vi sia stata comunicazione si perde e rischia perdendosi con la sensazione di non avere una delle certezze alle quali fare riferimento mentre segue la stagione potrebbe allontanarlo quindi da questo punto di vista c'è stato evidentemente un errore da parte della comunicazione di eurolega un eurolega che dobbiamo dirlo non è che sia il massimo dal punto di vista comunicativo è un peccato viste le squadre che sono implicate visto il bacino d'utenza potenziale che ha la competizione specialmente quando ci sono leghe minori che stanno facendo un ottimo lavoro dal punto di vista della divulgazione di informazioni andiamo avanti con i risultati sempre mercoledì vittoria della stella rossa a belgrado caso vuole che sia la giornata del mercoledì che la giornata del giovedì siano state concluse dalle da una squadra di belgrado stella rossa e partizan contro una squadra spagnola nel caso della stella rossa vittoria per 78 a 71 contro il basconia per quanto riguarda invece le gare del giovedì la prima dobbiamo soffermarci perché perché il fenerbace vince in casa dell'anadoluefes nel derby istambul 83 a 78 ma durante la partita c'è un episodio che dobbiamo sottolineare un episodio brutto increscioso soprattutto per elagio a bryant il giocatore dell'anadoluefes dopo uno scontro a rim in di gioco con sotto il proprio canestro morde taric biberovic e scatena una mezza rissa brutto gesto del giocatore statunitense un gesto che andrebbe evitato a prescindere anche se si è in transagonistica ed è un gesto che probabilmente porterà delle conseguenze per il giocatore statunitense andiamo invece alle altre gare all'astro ball la virtus sega freddo bologna si arrende per 87 85 contro la svela villi urbana partita che analizzeremo tra poco vittoria per i campioni in carica del panatinaico sado haca per 94 79 sul bayern monaco vince anche la runner up della scorsa stagione il real madrid che dopo la sconfitta inaugurale contro il bayern monaco torna al successo per 93 86 contro il partizan belgrado una vittoria che quindi rilancia il real in classifica classifica che ovviamente è ancora parziale in attesa delle tre gare che si disputeranno stasera e sono le seguenti olimpia cospireo zagri scaunas barcellona alba berlino e a settemore al mani milano pari basketball diciamo della classifica in testa i campioni in carica del panatinaicos con due vittorie zero sconfitte lo stesso record che vantano monaco fenerbace e stella rossa belgrado ha una vittoria zero sconfitte lo zagri scaunas ovviamente una gara in meno stesso numero di vittorie sconfitte 1 e 1 per anadol fs istambul maccabi telaviv real madrid basconia e ville urbana oltre che il bayern monaco undicesimo primo in questo momento a non accedere alla post season con zero vittorie ed una sola sconfitta troviamo pari basketball barcellona alba berlino olimpia cos pireo ed è a settemore armani milano che disputeranno le proprie gare stasera mentre al diciassettesimo posto troviamo la virtù seca freddo bologna con zero vittorie due sconfitte stesso record del fanalino di coda partizan belgrado una belgrado che quindi vive una situazione di poli opposti non solo tra tifoserie ma anche di andamento della squadra se la stella rossa ride il partitan di coach zelico bradovic piange e piange due sconfitte consecutive andiamo alla gara dell'astro ball la virtus seca freddo bologna si ferma all'alba del quarantesimo minuto della sirena finale con il tiro di isaia cordini bloccato da naco andiamo a vedere subito le cifre di questa partita una virtus seca freddo bologna che inizia in maniera horror la gara subendo ben 38 punti nel solo primo quarto dall'attacco della formazione francese la formazione di coach luca banchi recupera vincendo tutti e tre i quarti successivi tuttavia non basta perché 22 19 21 16 e 15 14 portano un recupero fino almeno due che però tuttavia non è sufficiente per quantomeno portare la gara al supplementare dicevamo della formazione di casa il migliore in campo è ne al sacco partita da 16 punti 11 rimbalzi due palle rubate e due stoppate l'ultima decisiva a dire di no a isaia cordini che aveva provato ad essere l'eroe di cui aveva bisogno la formazione di coach luca banchi doppia cifra anche per nando decolò 16 punti a cui aggiungere otto assist al referto 17 punti di teo maledon grande il fattore francese in questa ville urbana shaquille harrison 13 punti e il quarto giocatore in doppia cifra per la formazione allenata da pierrick poupe in cui l'assistant coach è anche quello della nazionale italiana ovvero edoardo casalone per quanto riguarda la virtus invece non bastano i 23 punti di isaia cordini e il suo tentativo di arrivare al punto 24 e 25 che avrebbe sforzato l'overtime viene fermato da sacco però doppia cifra anche per alessandro paiola 11 punti con anche 4 rimbalzi e 5 assist il cordini e aggiunge 5 punti e 6 assist al proprio referto di 23 punti una virtus che però trova punti anche da mohammed di uff l'ex reggio emilia breogan che era una delle seconde linee uno dei gregari che avevano deluso di più nelle prime uscite si riscatta e mette a referto ben 15 punti con 6 su 7 dal campo e ben 4 rimbalzi in 17 minuti di cui 3 sotto il canestro avversario ed è una delle poche note positive perché questa virtus patisce tantissimo al rimbalzo prende 27 rimbalzi totali contro il 44 di ville urbana nonostante tiri molto meglio degli avversari 56,1 da 2 contro il 51 e 1 di ville urbana 47,1 da 3 contro il 36,4 di ville urbana 71,4 per cento i liberi contro il 65,2 di ville urbana però nonostante i 24 assist al referto di squadra questa virtus perde male nel primo quarto e per quanto abbia remato controcorrente non riesce ad arrivare arriva è una virtus che paga tantissimo concede ben 21 rimbalzi sotto il proprio canestro raccogliendone appena 19 quando la squadra avversaria prende più rimbalzi di te sotto il tuo canestro vuol dire che nel tuo reparto lunghi c'è un problema e c'è un problema che bisogna affrontare perché la mancanza di un lungo sta facendo malissimo alle punere si è visto in supercoppa quando banchi ha dovuto impiegare quintetti privi di un 5 di ruolo e non è 5 di ruolo nemmeno moab e di uff per quanto possa adattarsi si è visto contro napoli che che ha goduto di una certa libertà sotto il canestro della virtus si è visto contro l'olimpia milano in cui nibo si è guadagnato con merito il titolo di mvp della supercoppa si è visto contro trapani è una virtus che ha bisogno di un lungo quanto prima i tempi di recupero di devonte che non sono certi si parla di una spalmatura del dell'ingaggio viste le condizioni fisiche dell'ex esca e los angeles lakers si parla di nomi da aggiungere al roster c'è stato un cd a in casa virtus per quanto ci è potuto aggiungere si parla di un extra budget da mettere sul piatto per un lungo si sono fatti nomi si è fatto il nome di in uscita al fenerbahce perché perché un altro potenziale obiettivo bruno fernando avrebbe un accordo con la squadra turca per unirsi al al team di coach jasic e vicius e di nick melli e quindi sarebbe berch il designato ad uscire dai giallo blu e magari potrebbe approdare proprio alla corte di luca banchi l'altro nome che si era fatto era quello di jordan bell che secondo quanto riporta asportando sarebbe ancora in attesa di una risposta dal club virtusino una virtus che però deve fare presto deve ritrovare un equilibrio troppo sbilanciata negli altri quattro ruoli rispetto al ruolo di cinque e quando zizic solo quattro punti e nessun rimbalzo non è in giornata non ti fattura la doppia doppia anche per il livello degli avversari e la fisicità degli avversari sono dolori sono dolori di pancia sono dolori di testa per un luca banchi che probabilmente si aspettava di avere il suo secondo lungo già a disposizione rientrato dal dall'infortunio e invece non è così c'è stata la mezza polemica tra il sio luca baraldi e lo staff medico della virtus una polemica esternata da baraldi cosa che possiamo permetterci dire non è stata la scelta migliore non solo perché esponi dei tuoi lavoratori ma perché stai dando un alibi e oggi ci sarà chi dirà eh ma c'è questo alibi non potevano sapere questo è il punto la squadra stessa ha avuto l'alibi di vabbè possiamo appellarci al fatto che non abbiamo un lungo e che non c'era stato detto quindi se perdiamo abbiamo questa attenuante l'attenuante però te la sei giocata esternando queste cose perché è creato anche una situazione ambientale difficile era necessario di solito la saggezza popolare dice che i panni sporchi si lavano in casa andiamo a parlare di euro cup dove si è disputato il terzo turno della competizione per tutti e due gruppi andiamo a vedere i risultati del mercoledì sera dopo che abbiamo analizzato nella scorsa puntata quelli del martedì ma li andiamo a riepilogare tutti nel gruppo bid disputato mercoledì sera la vittoria per 92 a 74 dell'aris salonicco sugli capelli spanevezis 94 76 invece per il ratio farm ulm sul campo del bc vols vilnius vittoria invece interna per il turc telecom mancara che resta a punteggio pieno nel gruppo b contro il sede vita olimpia lubiana e nel gruppo a invece l'apole slomo tel aviv sbanca il parquet del besittas con una prestazione da 16 punti ed 11 rimbalzi di pat beverly ma andiamo nel gruppo b dove ricordiamo la sconfitta della virtus della chiedo scusa dell'umana reier venezia contro burgen bress anche qui però dobbiamo parlare di un episodio che è accaduto alla fine della partita durante il classico giro di ringraziamento dei giocatori alla tifoseria c'è stato un alterco che ha coinvolto un tifoso e davide casarin il giocatore è stato aggredito verbalmente secondo alcune fonti altre riportano che si sarebbe girato lui senza motivo riesce ammettiamo un po difficile crederlo verso un tifoso che non gli avrebbe detto niente la questione ha visto poi implicate le forze dell'ordine che hanno riconosciuto praticato i dovuti riconoscimenti al tifoso coinvolto in questo scontro però c'è da fare un discorso insultare prendersela con i familiari dare dell'incapace e questo il tipo di amore che si vuole giustificare vi parlerò con termini molto forti è amore dire a un giocatore non vale niente sei lì solo perché sei il figlio di sei un raccomandato non serve a nulla e tutte queste cose non somiglia tanto alla violenza verbale che si applica e si punisce nei confronti del proprio partner e se ad una persona che ha giocato come davide casarin su una tendinopatia per ovviare nella misura del possibile ad assenze del calibro di tyler hannis jordan parks xavier munford o rodney begruder che in questo momento è ancora negli stati uniti a causa dell'uragano milton e amedeo tessitori fuori per infortunio dice una roba del genere con quella logica cosa fai in casa tua nei confronti della persona con che ha deciso di condividere la vita e che ha deciso di condividere la propria vita con te perché se applichiamo questo discorso il ragionamento è uguale e non si può dire che il palasport lo stadio devono essere zona franca le critiche sono il sale del dibattito sono giuste è giusto esprimerle purché si rimanga entro i limiti della civiltà esprimere un dissenso è sacrosanto insultare denigrare colpire l'autostima di una persona per quanto faccia il lavoro dei suoi sogni implica lo stesso ragionamento che si fa verso il partner lo fai perché l'ami troppo qualcuno la chiamava addirittura amore criminale perché poi dagli insulti si passa sempre o quasi se non ci sono interventi precedenti alle vie di fatto e allora se ragioni così per quella che può essere la cosa più importante delle cose meno importanti come ragionerai quando le cose saranno importanti più importanti tra le cose più importanti non si può sdoganare tutto questo non si può accettare o giustificare era amareggiato tutti siamo amareggiati nella vita tutti hanno una squadra del cuore che a volte vince a volte perde e che senso ha essere amareggiati per una squadra che non ha potuto competere contro la finalista della scorsa edizione perché le mancava metà del roster che senso ha irrazionale no non c'è irrazionale perché che non ci fossero quegli elementi tre quinti del quintetto lo si sapeva già era notizia l'infortunio di Wunford era arrivato in campionato Ennis era mancato già nel campionato Tessitori si è infortunato nel campionato che McGruder non sarebbe potuto arrivare si sapeva che Parks fosse infortunato si sapeva perché aveva saltato anche la partita con Trento e si vuole mettere in dubbio l'impegno di un giocatore che potrà essere più o meno bravo ma che ha giocato su un infortunio per non lasciare in braghe di tela i propri compagni il proprio allenatore e i propri tifosi su questo non si passa sulle qualità del giocatore si può dire quello che si vuole ma sulla professionalità prima di accusare chi che sia di mancanza di professionalità prima di insultare di denigrare di provare a distruggere emotivamente una persona bisognerà passare sul cadavere di chi un minimo anche nell'irrazionalità di dignità di saper stare in qualsiasi ambiente al mondo e il mondo include il pazzetto ce l'ha ancora perché poi si può dire hai giocato male si può dire non sei secondo me il miglior giocatore possibile per questa squadra ma mettere in discussione l'impegno questo no questo no mettere in discussione che quella persona si sia al netto delle facilità o meno che possa aver avuto che questa persona si sia meritata anche un solo minuto in campo con il lavoro che fa durante la settimana e che tu non vedi per ovvi motivi questo è andare oltre e questo è ciò che tu non accetteresti sul tuo posto di lavoro da parte di qualcuno che non ti ha visto lavorare durante tutta la settimana e che è passato magari in una giornata dove non stavi bene dove sei andato a lavorare nonostante degli acciacchi e quindi non potevi rendere al massimo per quanto tu ci sia impegnato basta con questa retorica che se si perde è che i giocatori non ci mettono la grinta non ci mettono la voglia non ci mettono l'impegno per dire certe cose bisogna avere delle prove per dire certe cose bisognerebbe dire a quella aver visto quella persona fare i bagordi per dire certe cose bisognerebbe vedere il lavoro che fanno durante la settimana adesso basta andiamo avanti con le gare che si sono disputate il mercoledì gruppo B in cui Valencia si lancia in testa alla classifica sbancando il parquet del Cluj-Napoca alla BT Arena per 105 a 96 vittoria anche per l'Apoel-Gerusalemme alla Samokov Arena dove disputa le proprie partite casalinghe per 89 a 74 si Ambur Towers Blitz alla Ergo Arena dei Sopot della Gioventud Badalona contro il Tref Soplot per 78 a 73 mentre la Dolomita Energia Trentino, pessima prestazione va detto la più brutta Dolomita Energia Trentino della stagione si inchina per 64 a 85 al cospetto del Buduznos Volley Podgorica nel big match del gruppo A invece vittoria per Gran Canaria per 66 a 63 ai danni del Baceseir Collegi Istanbul andiamo alle classifiche queste si aggiornate con tutto il terzo turno disputato gruppo A che vede in testa Razio Farmulm e Dreamland Gran Canaria mentre a seguire Baceseir Collegi e Apoel-Slomo Tel Aviv oltre alla Gioventud Badalona hanno due vittorie ed una sconfitta una vittoria e due sconfitte per il Buduznos per il Beziktas e per la Dolomita Energia Trentino a 0 vittoria ancora al palo il Tref Sopot e i BC Wolves allenati da coach Alessandro Magro nel gruppo B invece terzetto in testa con i finalisti della scorsa edizione Burgen-Bress, Valencia che retrocesse dall'Eurolega e Turk Tele con Mancara mentre a due vittorie ed una sconfitta troviamo la coppia formata da Apoel-Gerusalemme e Serie Vita Olimpia Ljubljana una vittoria e due sconfitte per Romana Reier-Venezia che in questo momento chiude la zona playoff e Laris Salonico che sarebbe la prima esclusa zero vittorie e tre sconfitte invece per Kluznapoca, Lietkabeli, Spanevezis e Hamburg Towers andiamo alla gara del T quotidiano Arena una T quotidiano Arena che deve inchinarsi al strapotere del Buduznos Trento fatica tantissimo regge solamente per un tempo restando in scia pur indietro nel punteggio dopodiché nel terzo quarto subisce un parziale definitivo di 23 a 9 non bastano le prestazioni in doppia cifra di Miles Cale ancora una volta miglior marcatore dei momenti di coach Galbiati 13 punti per lui né i 12 di Anthony Lambo o gli 11 con 5 rimbalzi di Shalom Mavugbe per la formazione bianconera partita così e così in chiaro scuro per Quinellis che è vero mette a referto 6 punti, 3 rimbalzi, 4 assist e 4 palle rubate ma anche 5 palle perse sanguinosissime per l'economia della gara per quanto riguarda Jordan Ford invece partita deludente solo 7 punti con 3 su 9 dal campo per quello che era stato il leader della squadra nelle prime uscite la curiosità è che dopo la partita Anthony Lambo autore di 12 punti con 3 su 10 dal campo e 5 su 5 ai liberi ha deciso di rimanere al Palasport a fare sessione di tiro una scelta che ricorda grandi personaggi dell'NBA una scelta che dimostra l'implicazione che il giocatore ha nei confronti della sua squadra al netto del proprio passato invece per quanto riguarda il Buducinos partita stupenda della formazione di Podgoritz ha partita in surplus per gran parte della gara Jogi Ferrell gioca una gara da star con 21 punti 2 rimbalzi, 3 assist ed una palla rubata bene anche Nicola Tanaskovic con 13 punti 10 invece per Wright per la formazione di coach Andrei Zaccheli bene anche Sulaimon anche se non arriva alla doppia cifra 8 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e 2 palle rubate 9 invece per Fletcher Maggi andiamo quindi a concludere questa prima parte del nostro notiziario parlando delle notizie relative all'NBA vi avevamo detto che c'è stata la prima partita disputata da Lebron James insieme a suo figlio in una gara di pre-season appena 4 minuti insieme per padre e figlio attenzione però perché Lebron James si è fatto notare per una polemica, per un viaggio a Milwaukee per una partita di pre-season dicendo dobbiamo viaggiare fino lì solo per giocare una singola partita uno statement comunque in contraddizione anche con le critiche rivolte da lui all'Ord Management che si fa durante la stagione regolare e che è stato fortemente ridimensionato dalla regola dell'NBA che impone almeno 65 presenze per optare a uno dei premi individuali per quanto riguarda il mercato il mercato i Dallas Mavericks firmano AJ Lawson di ritorno con un away contract mentre ha parlato Jalen Branson avrei meritato di giocare a Parigi con team USA la prossima volta voglio esserci il playmaker dei New York Knicks che ha chiuso la scorsa stagione con 28.7 punti e 6,7 assist di media lancia subito la propria candidatura in vista di Los Angeles 2028 prime immagini invece della coppia sulla quale puntano i San Antonio Spurs ovvero Wemba Niyama Chris Paul con CP3 che ha detto quando hai squadra un giocatore che riceve così tante attenzioni sia dentro che fuori dal campo non si finisce mai di trovare modi per far male agli avversari per quanto riguarda invece i Denver Nuggets esercitate le opzioni per Chris Brown, Peyton Watson e Julian Strouder mentre la notizia del giorno è che Danny Green lascia il basket giocato ufficiale il ritiro del giocatore che aveva vinto il titolo storico di Toronto ed è stato uno dei quattro giocatori ad aver vinto comunque il titolo con ben tre squadre diverse chiudiamo invece con l'esordio di Carl Anthony Towns con i New York Knicks prima in casa 25 punti e 12 rimbalzi per l'uomo che è venuto a completare il mosaico per lanciare i Knicks tra le contender al prossimo titolo NBA noi adesso vi lasciamo perché tra poco comincia la nostra guida al campionato come in from my mind vocal percussion on a home at a level come in from my mind ah 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 what's gonna wait ah 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 baby maro baby me la de maro ah 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 ah